e bella a tutti ragazzi ben trovati in questo nuovo video io sono il vostro mister bistecca ed oggi sono i miei e ci ritroviamo qua su fortnite per fare insieme un'altra bella partita in singolo allora vediamo un pochino potremmo scendere tanto per cambiare raga proprio tanto per cambiare direi su pinnacoli speriamo che nessuno venga con noi allora subito fucire d'assalto bene vedo gente che ci sorvola sopra intanto ci prendiamo anche lo scudo no è andato lontano è andato di là no niente c'è qualcuno anche di là ok allora proviamo a entrare dentro sto palazzone vediamo se c'è qualcosa subito una bucata madonna che schifo ho trovato anche un pompa intanto quindi ci prendiamo subito i due scudoni così ci rimangono tutti e tre i mini scudi e poi chiaramente ci prendiamo il pompa blu che non è male non è male sento dei passi sento dei passi eccolo 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 ok ok madonna ragazzi c'è andata anche bene ci ha tolto un po di scudo ma a scarrettone bene bene questo luta gratis così buono vabbè ci cambiamo la pistola colpi ma mio dio loot loot per modo di d è un bello schifo proviamo ad andare di qua vedo là giù c'è uno slurp mattoni che è oh c'è uno sul monte c'è uno sul monte dai 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 oh madonna ma che è da oh buono ok lo scudo è tolto scudo è tolto da non è colpi maledetti sì vabbè ci si mette anche il muro questo bastardo come si sta barricando tutto oh ci stanno costruendo anche accanto raga stiamo attenti stiamo attenti non l'avevo visto stiamo attenti perché è un casino è un casino ci rimangono soltanto 40 colpi per la r non è una bellissima quello è sempre là dentro non si muove non sta scappando da dietro però sinceramente sono spaventato da quello che ha fatto le scale ora aspetta aspetta ok allora quello là solo l'abbiamo ammazzato ci manca l'altro potremmo intanzitutto provare a passargli da sopra magari non ci vede non so eccolo eccolo qui sulla scala dai dai madonna che mira madonna che mira oh un colpo ti manca dai ok buono buono raga buono senza rischi ci siamo già portati a casa 3 kill dei buoni loot perché questo c'è un bel cerchino viola interessante vediamo cosa c'è sopra ma vaffanculo allora vediamo munizioni insomma non c'è tutto sto granché a parte le munizioni ci prendiamo il pompa viola ma per il resto insomma non è che c'è proprio tutto sto granché insomma allora andiamo avanti ci siamo andati in safe no 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 ma perché sono stronzo perché sono stronzo a buttare via medit eccolo su intanto c'è uno allora andiamo da basso senza farci vedere stiamo attenti possiamo provare a andargli dalla scala che ha fatto lui prima allora vediamo dov'è vediamo dov'è vediamo dov'è eccolo 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 pezzo di merda madonna madonna non entro nei colpi non entro nei colpi non entro nei colpi dai è one shot è one shot è morice ok qua avanti a noi mi sa che c'è qualcuno perché vedo che qualcuno sta sparando perciò vediamo sì 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 c'è ancora uno dentro proviamo a passare da dietro forse non c'è no non c'ha visto non c'è verso l'abbia visto no no sta barricando avanti dai questo dovrebbe essere tranquillo girato ok buono 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 un'altra kill vediamo cosa c'ha di interessante se c'ha qualcosa di interessante sì vabbè partita vabbè ci ha dato 200 proiettili non si buttano via diciamo dai ah ma c'è uno su te ah quello ci stava sparando prima ok buona 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 cecchinata mega erbata allora io direi ragazzi di barricarci qua perché potrebbe essere un punto interessante facciamolo di mattoni ce ne abbiamo veramente una terba facciamola due per uno e boh facciamo tre quattro piani insomma adesso vediamo importante barricarsi in teoria noi potremmo riuscire a montare sulla forre mi sa che qui avanti a noi c'è un po' di gente c'è un po' di bordello intanto siamo in quattro rimasti minchia in un baleno e e allora c'è uno qua sotto e probabilmente anche uno lì ci dovrebbe essere comunque questo è qua sotto e è palese allora vediamo un pochino ok ok allora laggiù c'è effettivamente qualcuno che sta rinforzando tutto in ferro eccolo la eccolo la e vabbè per ora donna quanto cazzo sta facendo la torre alta quest'altro le trappole ma è che fare ragazzi mamma mi è impazzito comunque non ci hanno visto per ora uh buono buono si stanno razzando si stanno razzando e buono e buono gli sta razzando la base ragazzi quell'altro è stato furbo l'altro è stato furbo perchè gli sta razzando la base e lo manda giù ok aspettiamo che quell'altro cada così se muore con il danno da caduta è meglio se no lo finiamo con due proietti morto e beh è meglio così in teoria non ci facciamo scoprire dagli altri mi sa che ci ha visto raga mi sa che ci ha visto eh ci ha visto si ci ha visto si ci ha proprio visto sta bombardando quindi ci ha visto eeeh boh stiamo qua un attimo tanto noi siamo in safe lui non è in safe e infatti si sta buttando di sotto e infatti abbiamo perso l'attimo per sparargli era buono era buono sparargli in quel momento e ooo sono in due buono buono raga madonna se non la sfruttiamo ora la situazione non la sfruttiamo più dove cazzo è scomparso quell'altro eccolo 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 lui nel cespuglio oh si stanno sparando si stanno sparando si stanno sparando si stanno sparando dai 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 BOOM VAMOS